Potenziamento della videosorveglianza, prevenzione dei reparti, sicurezza. Il punto è stato fatto dalla Prefettura di Grosseto, nel contesto della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Massima sinergia operativa dunque tra le forze dell'Ordine e le polizie locali, potenziamento dei sistemi di videosorveglianza esistenti, collaborazione dei cittadini attraverso gli strumenti della sicurezza partecipata, mappatura dei siti sensibili rispetto al fenomeno dei reparti illegali. La riunione, preseduta dal Prefetto Paola Bernardino, ha visto la presenza di tutti gli esponenti nell'ambito della sicurezza a livello provinciale. L'incontro ha costituito poi l'occasione per procedere ad illustrare una serie di iniziative finalizzate a prevenire e contrastare il verificarsi di reparti illegali. Proprio in questa direzione il Prefetto ha già inviato al Presidente della provincia e a tutti i sindaci una scheda di rilevazione con la quale si procederà ad effettuare una ricognizione di tutti quei luoghi che per le loro caratteristiche logistiche e morfologiche potrebbero potenzialmente essere teatro di rave party illegali al fine di implementare le misure di contrasto durante tutto il corso dell'anno. Gli amministratori locali, nel manifestare un convinto ringraziamento per l'attività svolta dalle Forze dell'Ordine al servizio della comunità, hanno ribadito la volontà di incrementare la sinergia esistente tra Polizie Locali e Forze dell'Ordine.